Giulia non tornerà, però da questa vicenda deve nascere qualcosa, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio. È stata trovata senza vita a Senago nel milanese Giulia Tramontano, la ragazza incinta di sette mesi, fermato il fidanzato. Accoltellata, morte, gettata tra i rifiuti in un carrello della spesa, la vittima è una ragazza di appena 17 anni, Michelle Chiara Causol. Ancora una donna uccisa. La strage infinita delle donne. Una lista che non ha una fine, se ne conta una ogni tre giorni. Pierpaola Romana, poliziotta di Roma uccisa da un collega con la pistola d'ordinanza. Concetta, accoltellata dall'ex marito che aveva denunciato. Floriana Floris, 49 anni, uccisa da 30 coltellate infertere dal compagno. Stessa sorte per Cecil Fraimazzoldi, 21, per Rossella Nappini e per Anna Scala. Claudiana, attirata in una trappola dal compagno con cui si stava separando. Marisa, colpita davanti casa. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta così come sei. Storie diverse, stesse dinamiche. Possesso criminale spacciato per amore. Come si può morire a 22 anni per mano di chi diceva di amarti?